Sono lì, il pilone è lì, ma sono da solo, questa crestina qua me la risparmio, anche se qui è venuto fuori un po' di sole, perché è troppo cresta e non vorrei fare una simbolata. Bisogna saper dire basta, ma al Cibrario ci sono comunque, sono qua. Oggi è il 19 febbraio 2021, ho usato tutto quello che avevo, dai lamponcini alle ciaspole, alla piccozza, tutto quello che avevo qui. Qui sono proprio in bordo alla cresta e inoltre tutto c'è una nebbia qua sotto che fatico molto anche a orientarmi, ma comunque qui sono sulle rocce nere da questo lato, vedete? E dall'altra invece vai giù verso il liquidetto, verso i laghetti che ci sono qua sotto del Cibrario e poi di qua si torna indietro, il colombardo è nella nebbia, perso laggiù. Bene, adesso mi faccio una foto qui e poi diciamo che sono l'una meno 5 e torno giù, eccomi. Lassù in mezzo alle nuvole c'è anche un po' di sole che fa capolino.